Letizia Costruzioni, realizziamo i tuoi sogni. Bentornati all'appuntamento con le previsioni di TV6. Nel corso di questo mercoledì 16 marzo avremo ancora il dominio dell'alta pressione su gran parte d'Italia che porterà tempo nel complesso stabile. Qualche addensamento più compatto al nord, specie in Liguria e in Piemonte, però con fenomeni quasi del tutto inesistenti. Un po' di nuova bianca all'estremo sud, anche qui senza fenomeni. In Abruzzo si prospetta una giornata stabile a tratti primaverile, massime fino a 16 gradi alle basse quote sulle coste, ma clima gradevole anche nelle aree interne, notate anche 13 gradi all'Aquila. Minime in leggero aumento, valori tra i 2 e i 7 gradi, venti molto deboli di brezza. Grazie per l'attenzione, arrivederci al prossimo appuntamento. Letizia Costruzioni, realizziamo i tuoi sogni. Grazie per l'attenzione, arrivederci al prossimo appuntamento.